Prima di dimenticarmene Ok, adesso però è rimasto un menu Locatori Ok, allora Direi che possiamo iniziare Tanto come sapete è tutto registrato Siamo a 47, sì Ok, allora buongiorno a tutti Bentornati dalle vacanze di Pasqua E come dicevo prima che iniziassi la registrazione Appunto da adesso in poi ci concentriamo fondamentalmente su React Che è il framework JavaScript che useremo all'interno di questo corso Per mostrare come costruire applicazioni un pochettino più complicate di quelle che si riescano a costruire con JavaScript puro Ovviamente non è l'unico framework, come già detto inizio corso Abbiamo scelto questo framework perché fondamentalmente è uno dei più diffusi Abbastanza utilizzato in generale E consente di illustrare una serie di concetti che dovrebbero essere anche più generali Del framework stesso e quindi di fatto ci introduce a come si può organizzare in una maniera abbastanza ragionevole e come dire utile Il codice JavaScript in un'applicazione di tipo single page application abbastanza complicata Quindi andiamo a vedere che cosa vedremo nelle prossime settimane Appunto React è uno dei framework più diffusi Noi ovviamente non possiamo vedere tutti gli aspetti di React Perché se no non ci basterebbe il corso Vedremo i principi fondamentali su cui si basa Come costruire le applicazioni usando React Ovviamente sfruttando la conoscenza di JavaScript che abbiamo acquisito nella prima parte del corso Quindi dobbiamo essere abbastanza padroni del linguaggio JavaScript E poi lo utilizzeremo facendolo secondo lo specifico modo di programmare di React Ogni framework ha un suo modo di approcciare le cose che ovviamente va seguito Altrimenti il framework diventa inutile Perché il framework è una maniera di organizzare l'applicazione In modo che dovrebbe essere più semplice gestirla, mantenerla, eccetera Quando diventa grande Perché per scrivere due righe di JavaScript e fare un sito con quattro bottoni Chiaramente qualsiasi approccio va bene Ma nel momento in cui l'applicazione diventa più complessa Chiaramente dobbiamo cercare di avere un approccio un po' più sistematico Ogni framework ha la sua filosofia Perché abbiamo bisogno di un framework intanto? Perché in fondo sappiamo programmare JavaScript Avete provato nell'ultimo laboratorio a scrivere un po' di codice JavaScript Che manipola il DOM Append child, add event listener e così via Quindi sappiamo gestire il DOM Quindi la struttura della pagina HTML Sappiamo agganciare gli eventi Per quale motivo vorremmo avere un framework? Beh, perché intanto come avete, penso, avuto modo di osservare Nell'azione e anche nel laboratorio I metodi per gestire il DOM Non sono particolarmente uniformi Soprattutto quando andiamo ad utilizzare Certi tipi di elementi Per esempio i form Per esempio gli eventi sui form e così via Quindi Questo è un aspetto che Un framework ci potrebbe astrare un pochettino Rendere più uniforme Quindi rendere più semplice La programmazione di questi aspetti Poi un framework ci può fornire Dei componenti di più alto livello Rispetto agli elementi HTML Quindi componenti Parleremo ampiamente di componenti Cioè oggetti che già implementano Una certa funzionalità Che è molto più complicata di quello Più complicata in generale Di quello che ci può fornire L'elemento HTML stesso Anche se con l'HTML 5 Abbiamo visto anche Una serie di elementi abbastanza sofisticati Da un certo punto di vista Per esempio per il form Ma possiamo chiaramente Espanderci in questa direzione E poi un framework Che può automatizzare Alcune questioni di processamento Degli eventi E di aggiornamento Delle visualizzazioni Che ci potrebbero aiutare Nero scrivere la nostra applicazione Quindi un framework Ha dei pattern specifici Di programmazione Che dobbiamo cercare di seguire Il più possibile Perché? Perché così Traiamo il meglio Dal framework Perché usare un framework E poi programmare Come ci pare Chiaramente non serve a niente Perché Perché se non seguiamo La sua filosofia Non riusciamo a trarre vantaggio Dai meccanismi automatici Già pensati all'interno del framework Per risolvere una serie di problemi Che sono diciamo All'ordine del giorno Nelle applicazioni web Moderne Tra l'altro Usare un framework Ci consente anche Di utilizzare Quanto è già stato Sviluppato in giro Di solito Anche in modalità Open source Quindi liberamente Riutilizzabile Dal punto di vista Di ulteriori funzionalità Plugin Estensioni E così via E in più ci impone Di fare una certa Attenzione A come gestiamo Lo stato Della nostra applicazione Questa parola Stato tornerà spesso Nella discussione Delle applicazioni Single page Perché Fondamentalmente Avendo un'unica Vista Un'unica pagina Anzi Pagina Non vista Vista poi un'altra cosa Avendo un'unica pagina Che non ricarichiamo mai Dobbiamo gestire Che cosa visualizziamo E cosa visualizziamo Dipende dallo stato In cui l'applicazione Si trova Un po' come Una normalissima Applicazione Che gira sul calcolatore L'applicazione nativa Quando l'apriamo Siamo in uno certo stato Lo stato iniziale Poi quando Andiamo a fare un'azione Che se c'è lo stato Aperto La finestra di selezione Del file Poi Torniamo Nella stato Visualizzazione Principale Poi stato Editing Stato Salvataggio E così via Tutte queste questioni Vanno gestite In qualche maniera E ovviamente Un framework Che si rispetti Come peraltro React Ci dà Una modalità Abbastanza ben definita E ordinata Di gestire Questo stato Tutte queste cose A spunto Sono solo un'introduzione Le vedremo Nelle prossime lezioni Prima di iniziare A parlare Del framework stesso Qualche indicazione Su dove Trovare Risorse Informazioni E così via E' pieno Di siti web Ma diciamo Noi consigliamo Ovviamente Il sito ufficiale Di React In cui ovviamente Si parte Dai tutorial iniziali Dall'Hello World Piuttosto che Un mini tutorial Che vi insegna Come creare La prima applicazione React Cosa che faremo Stamattina insieme Che poi proverete A fare nel primo Laboratorio Che vi ricordo Il primo laboratorio Dei quattro Del primo Così detto Big Lab In cui si andrà A sviluppare Una piccola Applicazione React A breve Poi pubblicheremo Il testo E in questa Applicazione React Fondamentalmente Si estenderà Anzi si riciclerà Quanto fatto Nei laboratori Precedenti Per la to-do list E si comincerà A scriverlo Utilizzando La filosofia React E quindi ovviamente Noi cominciamo A parlare di React E quello che vedrete Nelle lezioni Verrà di solito Applicato Quasi subito Nel laboratorio Successivo Esistono anche Dei libri O altre risorse Sotto forma di libri Ma anche disponibili In formato elettronico Come questi Che vedete Sulla slide Non mi soffermerai Più di tanto Su queste cose Perché appunto In ambito web Di applicazioni web È ovvio Che sul web Trovate un po' di tutto Noi cerchiamo Di darvi delle indicazioni Risorse di cui Ci si può Il più possibile Fidare E che sono abbastanza Diciamo Semplici Ma allo stesso tempo Complete Ragionevolmente Complete Come contenuto Per poterlo utilizzare Come Diciamo Risorsa di studio Esistono anche Degli strumenti Di sviluppo Quindi non solo Il Visual Studio Code Ma se Avete visto sul sito Sul link Che portava Agli strumenti Di sviluppo Per React Esistono dei plugin Per i vari browser Per esempio Per Chrome React Developer Tools La stessa cosa React Developer Tools Per Firefox E così via Che vi invito A installare Se lo desiderate Perché ci consente Sostanzialmente Di analizzare I componenti React All'interno di una pagina Quando stiamo sviluppando La pagina La pagina Della nostra applicazione web E questo Ovviamente Non è obbligatorio Però ci semplifica Di molto la vita Perché React Essendo basato Sui componenti Con le sue proprietà Eccetera Come vedremo tra poco Poter vedere direttamente Questi aspetti E non solo Il codice JavaScript Che alle volte È un po' incomprensibile Perché ovviamente È una libreria Che avrà Tutta una serie Di Di quantità Di codice Che serve a gestire I vari aspetti Della libreria Eccetera Diciamo Non sarebbe così facile Da debuggare Se riusciamo invece A vedere direttamente I componenti E cosa corrispondono Sulla visualizzazione Le loro proprietà Eccetera Ci accorgiamo In maniera molto più semplice Di eventuali problemi E errori Comunque Oggi iniziamo Con una cosa semplice Per cui Diamo un'occhiata Ma non sarà ovviamente Fondamentale In applicazioni più complicate Può venire utile Andiamo quindi avanti E incominciamo A parlare Dei principi Che hanno guidato La progettazione Di React E che ci guidano Quindi nel progettare Le nostre applicazioni web Seguendo la filosofia React Prima di tutto React È un framework Che viene detto Dichiarativo Nel senso che In React Non programmiamo Del codice Non scriviamo Del codice Che manipola In maniera esplicita Il DOM Come abbiamo fatto Invece fino A ieri Fino all'ultimo Laboratorio In cui facevamo Append child Create element Noi non vogliamo fare questo Perché abbiamo detto prima Vogliamo astrarci dal DOM Che tra l'altro Non è del tutto uniforme Dipende un po' Dai componenti Che vengono Dagli elementi Che vengono utilizzati E quindi Lasceremo A React Il compito Di andarlo a modificare In maniera autonoma In più Non definiamo Mai in maniera esplicita L'ordine Delle operazioni Cioè Ci pensa React A come fare Queste manipolazioni Aggiornamenti Eccetera Del DOM Noi avremo Una serie di regole In questo senso È dichiarativo Abbiamo in mente Una serie di regole Quando scriviamo il codice Si basa su una serie di regole E noi dobbiamo Semplicemente dire Come ogni componente Che è l'elemento fondamentale Di React Pezzettino Che viene poi visualizzato Deve Deve Visualizzarsi Quindi render Vuol dire Come viene mostrato Sullo schermo Cioè Dobbiamo dire Come vogliamo Che si mostri E capiremo Adesso Meglio Che cosa Vuol dire Questo React Si basa Su una serie Di concetti Fondamentali Alcuni di questi Li ho già nominati Per esempio Appunto i componenti Ma Anche il fatto Che È Basato Su un approccio Di tipo funzionale Per questo abbiamo Anche intravisto Questo approccio In javascript Non solo perché Javascript Si presta bene A questo tipo di approccio Ma perché poi appunto Da molti framework Viene utilizzato Nel senso che Le funzioni Che scriveremo In React Si comportano Come le funzioni Che utilizziamo Durante la programmazione Funzionale Cioè Che non devono avere Effetti collaterali E A fronte Degli stessi parametri D'ingresso Devono avere Lo stesso risultato Che nel caso di React Sarà poi La visualizzazione Del componente React è appunto Basato Sui componenti Nel senso Che una pagina È un insieme Di componenti Quei pezzettini Che vedevamo Prima nella schermata Dei React Development Tools Quindi Ognuno Di questi Messi insieme Formano La visualizzazione Quindi la nostra pagina React Ri-renderizza Tutto quanto Ogni volta Che c'è un cambiamento E questo Vedremo Che è il punto di forza Ma anche un po' Una criticità E vedremo Come è stata affrontata Da React In più Ha un concetto Che si chiama Virtual DOM Che ci consente Di estrarre Dal DOM Reale Che è quello Visualizzato All'interno Della pagina Astrai anche Gli eventi Tramite questi eventi Sintetici E poi ci consente Di controllare Lo stato Dell'applicazione E su questo Torneremo ampiamente Perché appunto È una delle questioni Fondamentali Da imparare a gestire Con React Qui trovate Delle slide Che sono Più Dettagliate Riguardo Gli aspetti Di cui Parlavamo Prima Quindi React È funzionale Nel senso Che appunto Un pezzettino Dell'interfaccia UI Sta per User Interface Un pezzettino Dell'user Interface Cioè Praticamente Un componente La visualizzazione Deve essere Semplicemente Funzione Del suo Stato E delle sue Proprietà Tra l'altro Lo stato È opzionale Quindi Molti componenti Quindi Danno Luogo Ad una Visualizzazione Non hanno Uno stato Perché Non ne hanno Bisogno Bastano Le proprietà Per esempio Se Ha un componente Che mi mostra Una lista Di Oggetti Do la lista Non c'è niente Altro da dare Non ha Uno stato Non devo Interagire Con quel componente Invece Per esempio In una casella Di testo Di un form Interagisco Con quel componente Quindi cambio Su stato Avrà bisogno Di un certo Stato Nel momento In cui Appunto Abbiamo un approccio Di questo Tipo Vuol dire Che le funzioni Che andiamo Ad utilizzare Sono Idem Potenti Cioè Vuol dire Che se Rieseguiti Rieseguite Danno Lo stesso Risultato Quindi Non è Che a seconda Di quando La eseguo Ho un risultato Differente E immutabili Nel senso Che come tutte Le funzioni JavaScript Una volta Definite Per definirne Una diversa Devo fare Una nuova definizione Ecco Props E il termine Tecnico Di React Per properties Noi spesso Parleremo Di props Intendendo Le properties Quindi Le proprietà Di un Componente Le proprietà Passate Un componente E così via Semplicemente Lo troverete Come props Scritto Anche nei vari Tutorial Guide Eccetera Eccetera React Sfrutta L'immutabilità Degli oggetti Per cercare Di Diciamo Rendere la programmazione Il più possibile Semplice E anche Per avere Un processamento Il più efficiente Possibile Riguardo a tutte Quelle questioni Di aggiornamento Di cui dicevamo Prima Perché Chiaramente Più cose Cambiano E più I calcoli Sono complicati Per andare a capire Che cosa Bisogna cambiare Poi realmente Nell'interfaccia Visualizzata L'utente Le proprietà Dei componenti Sono immutabili Cioè il componente Non può andare a modificare Sono passate come parametro Ma non sono modificabili Ok E lo stato È modificabile Ma non direttamente Nel senso che Se lo stato Interno È il componente Possiamo modificarlo Ma dobbiamo utilizzare Delle funzioni apposite Di React Per fare Questa operazione E questo Perché Così React Tiene traccia Di che cosa È stato Cambiato Nello stato Quando è stato Cambiato E così via E aggiorna L'interfaccia Tutto quello Che si vede Di conseguenza Quindi il vantaggio Di seguire Questo approccio È che React Poi automaticamente Deciderà E aggiornerà Per noi Tutto quello Che c'è da aggiornare Sull'interfaccia utente Le funzioni Sono funzioni Così dette Pure Pure Significa che non hanno Effetti collaterali Al di fuori Di calcolare Il valore di ritorno Che in parole povere Vuol dire Che cosa Deve essere visualizzato Come interfaccia utente Cioè vuol dire Che se la chiamo Un'altra volta Con gli stessi parametri E lo stesso Quindi stesse proprietà Che comunque Sono immutabili Al componente Quindi non modificabili Nella funzione E lo stesso stato Se c'è lo stesso stato Il risultato Sarà lo stesso E quindi il tutto È ampiamente Predicibile Nel senso che Non dipende Da quando Chiamo la funzione Se questi due parametri Sono uguali L'applicazione È fatta di componenti E tutte le volte Che faccio una modifica Come si diceva prima Le proprietà E allo stato L'intera applicazione Viene rivisualizzata Viene fatto il render Dell'applicazione Tutte le volte Appunto che cambia qualcosa Stato O proprietà E può succedere di tutto Nel senso che Non è che cambia pochino Se ha cambiato poche proprietà E così via Dipende da come ho scritto Le funzioni Dipende da come ho scritto Tutti i componenti Quindi questa è la filosofia Di React Ovviamente un approccio così È un po' pesante Almeno a prima vista Perché Chiaramente nel momento In cui abbiamo Un'interfaccia utente Complicata Con tanti elementi E così via Ogni volta che cambia Una cosina Quindi pensate Ogni click dell'utente Ogni evento che succede Ogni spostamento Del mouse Eccetera So agganciato Qualcosa di questo tipo Mi scatena Il render di tutta L'applicazione È abbastanza pesante Quindi ci chiediamo Per prima cosa E diciamo Rispondiamo Prima cosa Alla domanda Che ci sorge spontanea Cioè Quali sono le performance Di un sistema Basato sul rendering Quindi sul ricalcolo Della visualizzazione Ogni volta che succede qualcosa Beh Potrebbe essere molto peggio Ma per fortuna React Ovviamente ci ha pensato E ha implementato Questo Strato Di virtual DOM Di cui vi parlavo prima Che fondamentalmente È una struttura Dati in memoria Ottimizzata Molto Veloce da Aggiornare Eccetera Eccetera Che Virtualizza il DOM E quindi aggiusta Anche alcune Peculiarità Un po' strane Del DOM Come vi dicevo prima Su cui si possono gestire Degli eventi E L'idea fondamentale È che Noi Con la nostra Con il nostro codice In React Andiamo a modificare Il virtual DOM Quindi questa struttura In memoria In React Nella quale possiamo andare A toccare qualcosa No? Quindi Quando c'è da toccare qualcosa Perché l'utente Ha cliccato Ha fatto E noi vogliamo Che l'interfaccia utente Cambi Lasciamo A React Il compito Di andare A modificare La struttura vera Quella visualizzata Cioè Il DOM Reale Questo lo fa Automaticamente React Quindi ogni volta Che un componente Ha bisogno Di essere Ri-renderizzato Quindi Cambiano le sue proprietà Cambia lo stato React Calcola la differenza Automaticamente Tra il vecchio DOM Cioè quello visualizzato Correntemente E quello nuovo Che sarebbe da visualizzare E va a modificare Il DOM Effettivo Solamente Andando a cambiare Ciò che deve essere cambiato Tra l'altro In un'unica operazione Se sono Presenti più modifiche Quindi Anche il browser Poi una volta Che andiamo A modificare Il DOM Deve andare A fare le sue operazioni Di cambiare il layout Cambiare la visualizzazione Eccetera eccetera Quindi In più React Ci mette Tutte le modifiche Insieme E fa l'operazione Una sola volta Nei confronti Del browser Come funziona In pratica Qui lo vediamo Ma qui Non voglio dire Ce lo dimentichiamo Perché è un aspetto Da tenere a mente Però Diciamo È una questione interna Di come viene realizzato Da React E affiorerà Solo in certi Specifici Punti Dove andremo A sottolinearlo React Fondamentalmente Tutte le volte Che c'è Da Da fare una modifica Quindi c'è Qualcuno Che ha modificato Il virtual DOM E quindi Ne ha fatto Una nuova versione React Va a Verificare Qual è la differenza Tra il nuovo virtual DOM E il vecchio virtual DOM Si calcola Si calcola Questa differenza Calcola Il minimo L'insieme minimo Di cambiamenti Necessari Da effettuare Sul DOM Reale E poi Li mette in code Ad un certo punto Li manderà Al browser Per fare L'operazione Di cambiamento Reale Quindi Dell'interfaccia Ovviamente Tutto questo Avviene In background All'interno Della libreria Noi non ce ne accorgiamo E in generale È vero Che avviene In maniera sincrona Cioè il tutto Viene messo in code Quando c'è bisogno Si andrà a fare Questa modifica Però Diciamo In generale Avviene molto rapidamente Per cui tutto Il meccanismo Funziona Perché Tutto questo Avviene In maniera efficiente E rapida Ok Però Ci consente Di lavorare Su una strazione Del DOM Che questo Virtual DOM Senza preoccuparci Di andare a fare Poi le modifiche Effettive All'interno Del browser Ok Per quanto riguarda Gli eventi Gli eventi Vengono gestiti In questa maniera React Ha il suo Sistema Interno Di gestione Degli eventi Per cui Noi non dobbiamo Più andare a fare Quelle operazioni Add event Listener Eccetera Eccetera Noi possiamo Agganciare gli eventi Li agganciamo Però Sugli elementi Del virtual DOM Che sono poi Mappati Quasi uno a uno Con quelli Del DOM Quindi ciò che avete Imparato per il DOM Si ricicla in maniera Praticamente immediata Sul virtual DOM Però sono scollegati E anzi È vietato In React Perlomeno Dalla sua filosofia Andare a Lavorare direttamente Con gli elementi Del DOM Quindi andare a Agganciare eventi Direttamente dal DOM E così via Abbiamo questo strato Che è il virtual DOM E dovremo Lavorare sempre Con questo virtual DOM E ha tutto il necessario Che ci serve per lavorare Inclusa la gestione Degli eventi Ok Che faccio A il codice Di React Vediamo qualcosa Di un po' più pratico Poi alla fine Di questo blocco Di slide Sì Tanto Dovremmo avere Abbastanza tempo Vediamo in pratica Come creare La nostra prima Applicazione React Quindi apriamo Il Visual Studio Apriamo il terminale Facciamo l'operazione Creiamo La prima applicazione React E giochichiamo Un attimo All'interno Di questa applicazione Bene Questo Che faccia Un semplicissimo Pezzetto di codice Scritto Secondo la filosofia React Bene Ovviamente React è una libreria Che sarà importata All'interno del nostro progetto E che ci mette a disposizione Una serie di metodi Per esempio C'è questo oggetto React DOM Che ha il metodo REND Che possiamo chiamare Con due parametri Uno È l'elemento React Che vogliamo creare E il secondo È il punto Dove vogliamo Andarlo a inserire Nel DOM Reale Nel contenitore Nel nodo contenitore Reale Le nostre applicazioni React Funzioneranno in questa maniera Ci sarà Una pagina Uno scheletro Di base Vuoto In cui ci sarà Un unico elemento Di solito Un div Con un id Facciamo Get element by id Root E questo c'è già Nello scheletro Base di React Tutto quanto Verrà appiccicato Lì sopra Perché Da lì Si costruirà Tutto l'albero Del virtual DOM Che verrà collegato Nel DOM Vero In quel punto Dove gli diciamo E quindi Avete visto L'altra volta Come facciamo a trovare Un punto Specifico All'interno del DOM La cosa più semplice Get element by id Con un identificativo Unico Cosa mettiamo? Un elemento React Che fondamentalmente È Del codice HTML Che sarà poi Trasformato In elementi React Nel virtual DOM Eccetera Ma fondamentalmente Del codice HTML Per questo Abbiamo imparato A scrivere Un po' di codice HTML Perché per scrivere Le nostre applicazioni React Dovremmo essere in grado Di usare Quei pochi tag Che ci consentono Di realizzare Fondamentalmente La struttura Della pagina Quindi Un header Un body Di contenuto Quindi Article Piuttosto che Non lo so Paragraph Quindi paragrafi Eccetera Di contenuto Piuttosto che Altre strutture Come le liste Tabelle E così via Blocchi Eccetera Ok Ovviamente Scrivere Come avete visto A sinistra Diciamo È una cosa Un po' Particolare Nel senso Che Questa L'area Di essere Codice JavaScript Tranne Per il fatto Che qui Abbiamo scritto Codice HTML Cosa che Per fortuna In React Si può fare Perché ci hanno Pensato Usando Questa Sintassi Cos'edetta JSX Javascript Extension Che verrà Tradotta Da qualcuno Noi Quindi Scriveremo Sempre Del codice Come quello A sinistra Perché ovviamente È molto più semplice Di quello A destra Quindi In pratica Nel momento In cui noi Vogliamo creare Dei tag HTML Dovremmo Usare Sempre React DOM Il nostro Tag HTML Se esiste Se no Il nostro Componente Che siamo andati a creare E poi Passare Come parametri Un oggetto Con la lista Degli attributi Ed eventualmente Una serie Di parametri Che sono I figli All'interno Dell'albero Del virtual DOM I quali A loro volta Anche loro Hanno bisogno Di parametri Se non ci sono NULL Quindi non ci sono Attributi Ok Allora nulla E poi il contenuto E così via Quindi chiaramente Se dovessimo scrivere In questa maniera Il codice sarebbe Effettivamente Piuttosto pesante E difficile Da leggere Per fortuna Quelli che hanno inventato React Hanno anche Pensato Ad una sintasse Più leggera Che si chiama JSX Che useremo Ampiamente Che ci consente Di scrivere Praticamente Come se scrivessimo Codice HTML Poi c'è qualcuno Un Tran Un Come si dice Un Un compilatore Un traduttore Ecco Un traduttore Bubble Tutto interno React Che al volo Tradurrà Questa Sintassi Che è HTML In quello Che vedete A destra Ma noi Non scriveremo Mai Questa cosa E funziona E se volessimo scrivere Possiamo provare Funziona Però Giusto bene Per fare una prima prova Ma a parte questo Non la useremo mai Perché? Perché ovviamente Vogliamo la semplicità Se il framework Ci complicasse Non servirebbe a nulla Ok Quindi abbiamo visto Un primo pezzettino Di React Che non è ancora Quello definitivo Perché in realtà Faremo poi fuori Cioè Elimineremo anche Questa chiamata E scriveremo le cose In una maniera Ancora diversa Ancora più semplice Però diciamo In linea di principi Abbiamo capito Che Siamo in grado Di creare Un albero Col virtual DOM Attaccato Da qualche parte Nel DOM reale E questo È quello Che ci consente Di fare React Perlomeno Fino a questo punto Ok Come funziona Il framework Il framework Volessimo Riassumerlo Diciamo che Questo disegno Sulla destra Lo fa abbastanza bene C'è un flusso Di dati Che è Di tipo circolare Nel momento In cui Dobbiamo visualizzare Qualcosa Avremo L'applicazione Che è In un certo stato Che è lo stato iniziale Quando viene caricata Questo stato Che contiene Lo stato Più le proprietà Viene Passato Ai vari componenti Seconda di dove Si trova lo stato Dove si trovano Le proprietà Eccetera Ogni componente Ci dice Come deve essere Visualizzato Dice a React Come deve essere Visualizzato React costruisce Il virtual DOM Dopodiché Si costruisce Il DOM reale E a questo punto Siamo fermi Nel senso che Fino a che non succede Qualcosa Non cambia niente Cosa succede Nell'applicazione Web Succede che L'utente interagisce Oppure Magari succede Qualcos'altro Tipo È stato caricato Un nuovo dato Dalla rete Eccetera Però Focalizziamoci Sulla cosa Più comune L'utente interagisce L'utente ha fatto Click da qualche parte Su un bottone Ha scritto Qualcosa in un form E così via Bene Quindi è avvenuta Un'azione Che quindi È stata Consentita Dalla vista Che abbiamo Caricato Quindi dal Da quello Che viene visualizzato Correntemente Nella finestra Del browser Questa azione Può andare A modificare Lo stato Nel momento In cui modifica Lo stato Con quelle funzioni Che abbiamo detto Prima Sono proprie Di react Che vedremo Qui vedremo Un esempio Alla fine Di queste slide Questa modifica Fa sì che React Rivisualizzi Il Ricalcoli Anzi Ricrei Il virtual DOM Verifichi Le differenze Con il vecchio Virtual DOM E ricrei La visualizzazione Aggiornata Secondo Il nuovo Stato Quindi le azioni Aggiornano Lo stato Secondo La logica Che definiremo Noi Programmando E questo Stato È passato Alla vista E ai componenti Che servono A creare Una nuova Visualizzazione Quindi Visualizzazione Qualcuno Fa un'azione Si va In un nuovo Stato Dell'applicazione Il nuovo Stato Crea una Nuova vista E si va Avanti Così In circolo Ovviamente I dettagli Li vediamo Mano a mano Che andiamo Avanti Nel corso Ok Alcuni aspetti Da tenere Sempre a mente Lo stato Nell'applicazione React Non è una Variabile globale O un oggetto globale O degli oggetti globali Eccetera Ma È un qualche cosa Gestito Da un solo Componente One In inglese vuol dire Un solo Non solo un Come in italiano Un solo componente C'è un componente Che è responsabile Dello stato Poi lo stato Può essere suddiviso In tanti pezzettini Quindi Vari componenti Possono essere Proprietari Gestori Di più stati Indipendenti No? Quindi che so C'è lo stato Il contenuto Di una casella Di un forum Piuttosto che Lo stato Lingua Italiano Inglese E così via A diversi livelli Possono esserci Diverse variabili Diversi Contenitori Con informazioni Diverse sullo stato Però C'è sempre Solo un singolo Responsabile Per ognuna Di queste variabili Che rappresenta Uno stato Un pezzetto Di uno stato Siccome Il componente È Il gestore Dello stato Quello stato Può essere Propagato Quindi può essere Va a cambiare La visualizzazione Solamente Dei componenti Che sono Figli Di quel componente Ricordatevi Che il componente È un pezzettino Del virtual DOM Che è un albero In questo albero Il componente Si trova In una certa posizione E avrà eventualmente Dei componenti figli Come Negli alberi Del DOM Sia virtuale Che sia reale Nel virtual DOM Appunto Ci sono questi componenti Figli Questi componenti figli A questi componenti figli Può essere passato Quello stato Avevamo visto Prima le funzioni Ecco Un componente figlio Prende Questo è il componente Padre Prende Informazione dello stato Che è disponibile Solo nel componente Padre Con le eventuali proprietà Passate dai componenti Di livello superiore I componenti figli Prendono solo le proprietà In cui è possibile Inserire anche lo stato Ovviamente il discorso Adesso è un po' astratto E diventerà un po' più concreto Quando vediamo Un primo esempio Però È importante capire Che C'è questo concetto Dello stato Che in realtà È assolutamente centrale E infatti È una delle cose più Se volete Difficili Ma anche Più interessanti Da imparare Cioè capire Dove mantenere lo stato E in generale È un problema Comune a tutte le applicazioni web Ovviamente noi Affrontiamo Questo problema Cercando di risolvere Secondo la filosofia React Ok C'è una domanda Questo significa Che possiamo avere Più componenti Di tipo stato In diversi rami dell'albero Oppure che possiamo Lasciare alcuni componenti Fuori dalla gestione Dello stato Allora Sicuramente Alcuni componenti Fuori dalla gestione Dello stato Sì Nel senso che ci sono Componenti Come vedremo tra poco E esclusivamente Dedicati a visualizzazione Che quindi non hanno Uno stato interno Ecco I componenti Non hanno Diciamo Vabbè Chiamiamoli di tipo stato Anche se non userei Il termine di tipo stato Un componente Che contiene Uno stato Possono essere Presenti In diversi rami Dell'albero Non necessariamente Neanche Di stessi Rami Ovviamente avranno Tutti una radice Comune Ma possono essere Non visibili L'uno all'altro Infatti ci sarà Un problema Da questo punto di vista Perché lo stato Se deve essere visibile E visibile Solo ai componenti Che stanno sotto Il componente Che contiene lo stato Deve essere poi Portato nel componente Comune a tutti quanti Per poterlo Rendere visibile Ok Bene Meno male che è chiaro Ok Quindi Nel momento in cui Cambiamo stato Un componente I componenti Di livello superiore Non vengono modificati E questo Per l'approccio di React Vuol dire anche Che non ne viene Cambiata la visualizzazione Perché a fronte Dello stesso ingresso Le props Che dicevamo prima Sono funzioni Idem potenti Sappiamo già Che il risultato Sarebbe lo stesso Quindi sarebbe inutile Andare a fare Il re-render Di quei componenti Solamente i componenti Figli verranno modificati Per questa ragione Appunto Lo stato Di solito Viene portato Nel componente Padre O madre Che viene Più comodo Per poterlo andare A propagare A tutti i componenti Figli Che ne hanno necessità E quindi Si può condividere Tra i vari componenti Figli Sotto forma di proprietà Perché lo stato Sta dentro Sempre solo Un componente Però I componenti figli Possono avere necessità Di accedere A quell'informazione E che vuol dire Anche che nel momento In cui lo stato Cambia Quei componenti figli Potenzialmente Possono cambiare Aspetto E React Si preoccuperà Di andare a verificare Se hanno cambiato Aspetto Ok Tutto all'interno Di una pagina Per quanto riguarda React È un componente Anche i semplici Tag HTML Li avevamo già Intravisti prima React.don Punto Vari componenti HTML Div P Eccetera C'erano H1 Div P Eccetera Eccetera Sono tutti componenti React Sono tutti modellati Nel virtual DOM Possono essere ovviamente Annidati Ma questo va da sé È un albero Quindi Il render Costruisce un componente E Lo attacca Componenti che puoi avere Anche componenti figli E lo attacca A un punto Nel DOM Reale Ed è quella funzione Che vedevamo prima Quindi React React.dom Punto Render Ok Ma noi In realtà La vediamo Per fare Un discorso Completo Poi alla fine Non la vedremo Neanche più Lavoreremo Sempre solo Dentro Quel punto In cui attacchiamo Tutto il contenuto Della nostra applicazione Come facciamo Se abbiamo bisogno Di definire Componenti Nostri Perché è vero Che ci vanno bene I componenti Base Div P H1 Table Eccetera Eccetera Va bene Quelli ci sono Vanno benissimo Se ne abbiamo bisogno Li usiamo Ok Però la forza Del framework È anche quella Di consentirci Di creare Componenti Più complicati Che abbiano Una logica Di funzionamento Perché altrimenti Tanto verrebbe Scrivere direttamente Nel DOM Come abbiamo imparato Finora O li creiamo noi O magari qualcuno Li ha creati per noi Quindi Plugin O altri Librerie Eccetera Che andiamo a caricare Che magari hanno già risolto Per noi problemi Complicati Ci forniscono Un componente React Bene Come facciamo A creare Il nostro Componente Ecco Il nostro Componente React È una cosa Estremamente Semplice Creare Un componente React Vuol dire Fondamentalmente Creare Una funzione Che Ritorni Degli elementi DOM No Che poi Sono quelli Di React Del virtual DOM Di React Quindi Fondamentalmente Vogliamo fare Un esempio Ok Cost Blog post Exert Uguale Una funzione Che non prende Parametri In questo caso Perché non vogliamo Passare proprietà Perché è un Esempietto In generale Prenderà poi Dei parametri E che cosa fa? Semplicemente Fa return Di Elementi Del virtual DOM Di React No Che scriviamo In questa Sintassi Semplificata Cioè Anziché Scrivere Return React Punto DOM Punto Eccetera Con questa Sintassi Abbiamo già Visto Prima Che esiste Una sintassi Semplificata Per fortuna Che possiamo Direttamente Utilizzare Quindi Qui è in grigio Ma è giusto Semplicemente Per dire Che Sono Una serie Di componenti Del virtual DOM Di React Annidati In questa Maniera No Nella Maniera Classica Che siamo Abituati Ad utilizzare In HTML Quindi Questo Componente È un Semplicissimo Componente Ovviamente È un Componente React Ovviamente È estremamente Semplice Cioè Tutte le volte Che viene Utilizzato Si vede Sempre la Stessa Cosa No Titolo Descrizione Eccetera È fisso Perché qui È una Costante Ma se L'avessi Passato Come Parametro Cioè Fosse Stata Una Proprietà Questo Contenuto Poteva Essere Modificato Vediamo Poi Tra poco Più avanti Questa Mattina Come fare Il primo Componente Proprio Diciamo Semplice Quindi Quel div Non è In una Stringa No No La sintassi È proprio Esattamente Questa Potremmo Mettere Punte Virgola No Che Come Sapete In Javascript È Abzionale In Quasi Tutti I posti E Chiaramente Questo Non è Codice Javascript È Del codice Che Noi Scriviamo Facendo Finta Diciamo Che Sia Javascript Cioè Lo Scriviamo In Un File .js Ma Poi Quando Usiamo Tutto Il Framework React C'è Qualcuno Come Dicevamo Prima Che Ce Lo Converte Nel Codice Javascript Vero Cioè Ci Scrive React .dom .div Aperta Tonde Eccetera E Ci Fa Che Di Di Fatto Lo Rende Inutile Noi Scriviamo In Questa Maniera E Poi Si Complicherà Già Abbastanza In Questa Maniera Perché Se Vogliamo Rendere Qualche Elemento Dinamico Possiamo Metterci Dentro Un Pezzettino Di Javascript E Così Via Questo Codice Ha Tutte L'Espressività Di HTML Ad E E Possiamo Dire Return DVD Uguale Qualcosa Usare Attributi Liberamento Ci Sono Limitazioni No Non Ci Sono Particolari Limitazioni Se Non Un Paio Che Vedremo Poi Tra Poco E Più Che Altro Dovuto Allo Fatto Che Javascript La Parola Chiave Class For Sono Riservate Insomma Dobbiamo Fare Un Attimo Attenzione A Questa Piccola Cosa Però A Parte Questo Possiamo Scrivere Tutto Quello Che Siamo Abituati A Scrivere In Che Come Vedete L'abbiamo Diciamo Resa Molto Più Pallida Che Quello Usando Le Classi Che Però Onestamente Quest'anno Non Non Ci Sentiamo Più Di Raccontare In Maniera Così Diffusa Magari Ne Faremo Un Cenno A Un Certo Punto Però Sta Andando Un Di Basa Questo Approccio Funzionale Quindi Nel Momento In cui Comincia A Introdurre Classi Che E Editano E Cetera E Dico Classi Non Le Abbiamo Ancora Viste Tra l'altro Uno Dei Motivi Per Non Vogliamo Metterlo A Questo Punto Non Che Esistano Veramente Le Visto Che Fondamentalmente Framework React Sta Andando Nella Direzione Di Usare Sempre Più Questi Componenti Che Sono Basati Sulla Singola Funzione E Non Sulla Classe Ci È Sembrato Ragionevole Raccontarvi Questo Tipo Di Approccio A Differenza Dell'anno Scorso Perché Appunto Questi Framework Evolvono E Quindi Tanto Vale Cercare Di Come Dire Stare Un Po Al Passo Per Quanto Possibile Anche Perché Poi A un Certo Punto Magari Certe Cose Non Sono Più Ben Supportate E Cetera Quindi Diciamo Che Noi Quest'anno Ragioniamo In Termini Di Componenti Scritti Semplicemente Sotto Forma Di Funzione Ok Quindi Per Chi È Curioso Magari Non So Nel Laboratorio E Cetera Può Farci Delle Domande Possiamo Anche Rispondere Su Come Funzionano In Altri Component Ma La Logica È Sempre Quella È Una Questione Di Come Si Dichiarano Le Cose Dove Si Mettono Dove Si Mette Il Codice Noi Però Diciamo Focalizziamoci Sui componenti scritti Sotto 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 Forma Di Funzione Ok Ecco Qualcuno Prima Scriveva Su Slack I Componenti Di Tipo Stato I Componenti Diciamo Componenti Fuori Dalla Gestione Dello Stato Ecco Non c'è Esattamente Questa Distinzione In React Però Diciamo Che I Componenti Li Potremmo Classificare A livello Teorico Come Componenti Di Tipo Presentazione Nel senso Che Fondamentalmente Si incaricano Solo Di Gestire In Virtual DOM Per Presentare Il Contenuto All'utente Come Poteva Essere Quello Prima Del Blog Div H H1 Col Titolo E P Il Contenuto Non Hanno Da Gestire Uno Stato Visualizzano Quello Che Gli Viene Passato Come Parametro Quello Prima Era Fisso Ma Possiamo Mettere Un Parametro Una Prop Una Proprietà Che Contiene Le Informazioni Da Visualizzare E Quelli Semplicemente Dicono Guarda Visualizzalo Con Un Div Un H H1 Un P Eccetera Possono Avere Un Piccolo Stato Interno Diciamo Ma Non Fanno Parte Della Logica Dell' Applicazione No Quindi Non È Che Mantengono Lo Stato Del Tipo Siamo In fase Di Inizializzazione Siamo In fase Di Salvataggio Siamo In fase Di Schermata Principale E così Magari Uno Stato Di Visualizzazione Del Tipo Che Appunto Se Lo Clicco Cambia Qualcosa Se Lo Seleziono O Lo Seleziono Eccetera Però Diciamo Uno Stato Di Presentazione Oppure Che So La Lista Forse La Lista Viene Un Po Meglio La Lista Se La Clicco Compare Se Non La Clicco Non Viene Fuori Quindi È Solo Uno Stato Di Presentazione Ma Il Contenuto È Sempre Quello Questa È Una Divisione Di Livello Logico E Poi Abbiamo I Componenti Tipo Container Che Effettivamente Gestiscono Dello Stato E Tipicamente A Questi È Demandata La Gestione Dello Stato Dell' Applicazione Lo Stato Vero Dell' Applicazione Cioè Cosa Stato Di Solito Per Un Gruppo Di Componenti Figli Perché Abbiamo Detto Prima Che Lo Stato Deve Stare In Un Solo Componente E Poi Deve Essere Accessibile A Tutti I Componenti Figli Quindi Per Forza Deve Stare Sul Componente Padre Di Tutto E Poi Di Solito Sono Quelli Che Sono In Grado Interagire Col Informazioni Dal Database O Salvarla Eccetera Eccetera E Poi Al Bisogno Creano Dei Componenti Figli Di Tipo Presentazione Cioè Quindi Sostanzialmente Senza Uno Stato Per Visualizzare L'informazione Pensate Al Componente Che Fa La Che So La Pagina Con A livello Di Variabili Javascript Con Oggetti Titolo Contenuto Titolo Contenuto Una Lista Prende Questa Lista Per Ognuna Delle E Gli Elementi Di Questa Lista Di Questo Array Crea Un Componente Figlio Come Il precedente Quindi H1 Titolo P Contenuto E Così Via Vediamo Un Quindi Questa È La Logica Di React Stiamo Ovviamente Facendo Una Panoramica Poi Torniamo Su Queste Cose Nel Momento In Cui Facciamo Delle Prove E Approfondiamo I Vari Aspetti Però È Giusto Per DOM In Maniera Molto Grossolana In Cui Non Vediamo Tutti I Singoli Elementi Che Corrispondono Agli Elementi HTML Del DOM Ma Vediamo Gli Elementi Raggruppati In Componenti Scritti Da No Scritti Da Qualcun Altro Non Importa Diciamo Che React Funziona In Questa Maniera Partendo Dalla Radice Ci Sarà Un Componente A cui Sono Passate Delle Proprietà Che Ha Dei Componenti Figli A cui Passa Delle Proprietà Per E Nel Caso Che Facevo Prima A voce La Lista Dei Post Ad Ognuno Di Queste Componenti È Passata La Proprietà Titolo Che Corrisponde Al Titolo Di Quel Post E La Proprietà Contenuto Che Corrisponde Al Contenuto Di Quel Post Quindi Sono Tre componenti Che Sono Lo Stesso Dal Punto Di Vista Della Logica Cioè Il Componente Che Visualizza Un Post La Stessa Funzione Ma A cui Sono Passati Parametri Diversi E Che Avrà Una Visualizzazione Diversa All'interno Quando Viene Visualizzata Da React Quindi Come Contenuto Visualizzato E Poi Eventualmente Questi Componenti Possono Avere Sotto Componenti E C C Quindi Componenti Figli L'utilizzazione Dell'applicazione E' Fatta In Questa Maniera Chi Passa Le Props Le Proprietà Ai Componenti E Il Componente Padre Che Cosa Sono Queste Proprietà Qualsiasi Cosa Che Sia Valido In JavaScript Cioè Queste Proprietà Sono Fondamentalmente String Numeri Oggetti E C Oppure Anche Funzioni In JavaScript Sapete Che Potete Passare Le Funzioni Come Tutto Il Resto E Non C'è Nessun Problema A Far Questo A Che Cosa Servono I Valori Quindi Numeri String Oggetti Eccetera Beh Fondamentalmente Ad essere Utilizzati All'interno Del Componente Per La Visualizzazione Dicevamo Prima Due String Una String A Titolo Una String A Contenuto E Se Passo Una Funzione A Che Cosa Serve Una Funzione In Un Componente Beh Una Funzione Passata Come Proprietà E Fondamentalmente Una Callback Che Cosa A Che Cosa Servono Queste Callback Servono Ad Essere Richiamati Quando Si Verificano Determinati Eventi All'interno Del Componente Stesso Per Esempio Sul On Click Qualcuno Clicca Su Qualche Elemento Attivo Del Mio Componente Cosa Faccio Chiamo Questa Callback E Quindi Nel Momento In Cui Passo Valori Come Proprietà I Dati Fluiscono Dal Padre Dalla Parte Alta Dell'albero Ai Figli Nel Momento In Cui Passo Delle Callback Ovviamente Fluiscono Dall'alto In Basso Ma In realtà Sono Fatte Per Essere Chiamate Con Grado Di Comunicare Coi Componenti Padre Tramite Le Callback Che Ci Vengono Passate Chi Ce Le Passa Chi Decide Di Passarle Sta Tutto A chi Realizza L'applicazione React Cioè Decide Come Organizzare L'applicazione React Cioè Voi Noi Che Programmiamo L'applicazione Abbiamo In Mente Questa Filosofia React Virtual DOM Componenti Con le Proprietà Le Proprietà Sono Valori Ok C'è qualcosa Da Bisogna Usarli Per Visualizzare Sono Funzioni Verranno Richiamate Dai Componenti Per Segnalare Qualcosa Ad Altri Componenti Più Su Nell'albero Ok Lo Stato Invece Un insieme Di Variabili Locali Al Componente Stesso Che Contiene Quello Stato Dovrà Essere Inizializzato Qualcuno Ci dirà Come Inizializzarlo Per Esempio Tipicamente Viene Inizializzato Con Valore Di Default Che So L'applicazione Quando Parte Ha il Bottone Attivato Allora Il Bottone È Sempre Attivo Attivo True Oppure Viene Inizializzato Da Una Proprietà Qualcuno Ci dice Come Inizializzarlo Qualche Componente Padre E Poi Può Essere Modificato Però Bisogna Dire React Che Uno Stato Vedremo Come Facciamo Cioè Non Possiamo Semplicemente Dichiarare Una Variabile Let State Uguale E Immaginarci Che Uno Stato No Bisogna Fare Una Certa Maniera Che Vedremo Però Un Pochettino Più Avanti Tutto Questo Meccanismo Ed Aggiornamento Dello Stato Che Vi Ricordo In React Poi Va A Cambiare La Visualizzazione Che Cambiamo Lo Stato E Come Cambiare Le Props React Ricalcola Il Virtual DOM E Decide Che Cosa C'è Da Aggiornare Nel DOM Vero Quello Dentro Il Browser Questa Cosa Viene Fatta In Maniera Asincrona Come Siamo Abituati A fare In JavaScript Perché Perché Altrimenti Diventerebbe Bloccante Bloccherebbe L'interfaccia Ecc Quindi Diciamo Che A un Certo Punto React Sa Che Avete Modificato Lo Stato A un Certo Punto Quando Ritiene Opportuno Farà Gli Aggiornamenti Il Valore Dello Stato È Presente Nel Componente E Può Anche Essere Passato Come Proprietà Componenti Figli Non Come Stato Perché Non Si Può Passare Solo Una Prop Una Proprietà Quindi Questo Vuol Dire Che Può Essere Passato Ma Bisogno Deve Essere Modificato Dal Componente In Cue Presente Lo Stato Come Si Fa Modificarlo Da Un Componente Figlio Se Fosse Necessario Bene Abbiamo Il Meccanismo Delle Callback Di Prima Che Approfondiremo Bene Nelle Prossime Lezioni Passiamo Una Callback Che È Implementata Nel Componente Dove C'è Lo Stato Che Può Modificare Lo Stato Questo Diciamo Più 30 Quindi Abbiamo Ancora Una Mezz'oretta Scarsa E Possiamo Finalmente Fare Una Prova Pratica Abbiamo Fatto Tanta Teoria Vediamo In Pratica Che Cosa C'è Da Fare Tra L'altro Quello Che Ci Sarà Da Fare Nel Primo Laboratorio Lunedì Quindi Prima Applicazione Requisiti Allora C'è React Che Fondamentalmente È Una Libreria JavaScript Quindi È Da Importare Come Avete Fatto I vari Require Qui Lavoriamo Nel browser Non ci sono Più Require Adesso Vi Spiego E Quindi C'è Da Importare React Vogliamo Usare JSX Sicuramente Non Vogliamo Scrivere React .dom .div . Queste Cose Qua Non Ce Lo Sogniamo Neanche Quindi Dobbiamo Avere Bubble Tutto Quello Che È Necessario Per Fare Questa Traduzione In Maniera Automatica Ma Per Fortuna Vedrete Che Tutto Questo Si Risolve Nel Importa Tutto Quello Che Necessario Per React E Poi Abbiamo Bisogno Di Un Server Web Per Iniziare A Fare Delle Prove Perché Perché Fondamentalmente Ci sono Una serie Di Problemi Quando Andiamo Dentro Il Browser E Vogliamo Usare Le Librerie Esterni Moduli Eccetera Eccetera Che Di Fatto Ci Richiedono Un Server Web Quindi Per Importare Del Codice Abbiamo Ancora Visto Ma Che Sono La Maniera Fondamentalmente Di Importare Delle Librerie Esterne Nel Codice HTML Scritto Come Import Nel Browser Quindi Cioè Come Importazione Nel Browser Cioè Nel Momento In cui Vogliamo Importarlo Nel Codice HTML Dobbiamo Avere Un Server Web Perché Se No Il Browser Si Rifiuta Di Caricarlo Cioè Non Si Può Caricare Da Un File E poi Vabbè C'è tutta la Questione Di Compatibilità Dai Browser Quindi Delle Librerie Che Ci Implementino Ciò Che Manca Nei Vari Browser O Lo Rendono Uniforme Eccetera Eccetera E poi Anche Voglio Dire Se Ci Fose Qualcuno Che Ci Dà Una Mano Nello Sviluppo Per esempio Siamo Sempre Lì A Salvare Provare Eccetera Non Sarebbe Male Per Fortuna Tutto Ciò È Risolto Da Un Sistema Che Adesso Proviamo E Che Fa Tutto Per Noi Apriamo Un Terminale Nella Cartella Dove Vogliamo Andare A Creare La Nostra Applicazione React E Scriviamo NPX Create React App Un nome Dell'applicazione Che Vogliamo Dare Per esempio Per i Laboratori 1 Potete Verrà creata Una cartella My App In cui Facciamo NPM Start E Magia Con un browser Accedendo A localhost 3000 Abbiamo la nostra Applicazione React Funzionante Molto Di base Molto Come dire Un template Molto Di base Che Adesso Vediamo E Lì Possiamo Iniziare A Lavorare Andiamo A farlo Perché Come Vedete Questo Semplice Comando Scarica 270 MB Ci mette Due minuti E qualcosa Ad essere Eseguito Quindi Allora Direi Che Apriamo Facciamolo Direttamente Dal Visual Studio Tanto Si può Fare Ok Quindi Io Apro Ho una Cartella Dove Voglio Mettermi A Lavorare Come Sempre Mi Metto A Lavorare Una Cartella Ma Questa Ovviamente Non c'è Neanche Da dirlo Perché Devo Mantenere Un po' D'ordine Sul Computer Diciamo Che Io Ho Preparato Una Cartella Vuota React Lezione Ok Questa È Vuota Sto Aprendo Una Cartella Completamente Vuota In In Visual Studio Potrei Potrei Farlo Anche Nel Terminale Ma Non Fa Niente È Completamente Vuota Apro Il Terminale Giusto Così Per Comodità Lo Faccio Qui Dentro Avrei Potuto Usare Un Terminale Normale Quindi Npx Che Non Fa Nient'altro Che Scaricare Un Pacchetto Ed Eseguirlo Immediatamente Cioè Come Npm Execute Npx Create React App E Poi Diamo Un Nome Diamo Un Nome Prova Uno Tanto Per Cambiare Per Molta Fantasia Mi Sembra Rapido Ma In realtà Questo È Solo Un Pezzettino Adesso Ci Mette Lì Io Lo Lascio In Un Angolino Perché Non Riesco A Spostarlo Mi È Scappato Su Un Altra Ok Ve lo Lascio In Un Angolino Così Vedete Cosa Fa Anche Se In realtà Non C'è Niente Da Vedere C'è Solo Da Aspettare Quindi Noi Stiamo I 270 Megabyte Sono Per ogni Applicazione Una Tanto Purtroppo Sono Per ogni Applicazione Nel senso Che Quindi Riciclate L'applicazione Possibilmente Se non Dove Se non Avete Voglia Di Riscaricare I 270 Megabyte Perché Cosa Fa Questo Sistema L'NPX Scarica Questo Moduli L'N Sì Diciamo L'NPX Usa NPM Scarica C'è il creator ActApp Questo Creater ActApp Scarica Cioè Scusate E viene eseguito È uno script Fondamentalmente E fa L'equivalente Di fare A mano Tantissimi NPM Install Come avete Già fatto No SQLite3 Il Come si chiama La libreria DayJS Eccetera Solo che Ce n'è Una valanga E sono Questi 270 Megabyte Che finiranno Dentro Una cartella Che si chiama NodeModules Che avete Già visto Perché L'avete Già visto Quando avete Installato A mano SQLite3 DayJS E ci prepara In più Tutto il resto Dei file Ma quella È poca cosa Che Ci consentono Di usare L'applicazione React Però Diciamo Che Avete Bisogno Di farlo Solamente Nel momento In cui Volete Creare Una Nuova Applicazione React Quindi Io vi Consiglio Di farlo Una volta All'inizio E poi Andare A modificare Dentro Quell'applicazione Poi Vabbè Se A un certo Punto Volete Modificare Ok Cioè Farne Una nuova Potete Però È un po' Come L'NPM Install Tutte le volte Che facciamo NPM Install SQLite3 Ci tiriamo Giù Di nuovo La libreria SQLite3 E quindi Sono 270 Megabyte Sia di scaricamento Sia di Spazio sul disco Questo Se volete Uno Dei difetti Se così Possiamo chiamarli Di React Ma anche Di tanti altri Framework Perché Ogni framework Ha dentro Tante cose No E E fondamentalmente Richiede Di scaricare Della roba Tanta roba Chi più Chi meno Ok Ha finito Mentre parlavamo Adesso non ho cronometrato Però quando ho fatto le prove Ieri Ci metteva due minuti E qualcosa Con una buona connessione Internet Chiaramente Se no Ci vuole anche un po' di più Ecco Quindi io ho solo dato quel comando Che avete visto prima Niente di particolare Cosa è successo? È spuntato un prova 1 Quindi anche da terminale Se volete Vedete C'è la cartella Prova 1 Ok Volendo quindi Possiamo semplicemente Sostituire File sorgente GS Mantenere il resto Sì Praticamente Fare il copia e incolla Dentro la cartella Che adesso vi dico E come faremo noi Tra l'altro Perché se no Dovrei aspettare due minuti Ogni volta che vi faccio vedere una cosa E possiamo Mantenere tutto il resto Sì Quindi Prova 1 Ecco Giusto per curiosità Vi faccio vedere quanto è grossa No Quindi c'è un po' di tutto 270 Vabbè E rotti Megabyte Ma a noi Non interessa cosa c'è dentro Tutto quanto sta in questo Node modules E qui dentro che c'è di tutto Bubble E compagnia Ma noi non tocchiamo Node modules Ok Noi andiamo ad aprire SRC E public No E torniamo un attimo Sulle slide Questa è la struttura Creata dal creator ActApp A noi interessano Poche cose No Qui ho dato il nome Della mia applicazione Prova 1 Eh c'è un readme Va bene Non fa niente Node modules Dove c'è di tutto Dentro Qualche json Che è quello che viene creato Quando si installano i moduli Eccetera eccetera Git ignore Ok public Public È quello che Conterrà i file statici Serviti dal Server web Che c'è anche venuto Scaricato insieme a tutto quanto E che adesso vi faccio poi vedere Come avviare Quindi c'è un index HTML Che è la pagina di template Che noi Fondamentalmente Non toccheremo Quindi nessuna necessità di modifica Di solito Che carica Un index.js In src Che di nuovo Non toccheremo Che contiene L'unica chiamata ReactDomeRender Che scriveremo Anzi Che è già scritta Che adesso vi faccio vedere Di nuovo Non tocchiamo Quello che tocchiamo È solamente questo file src App.js Sviluppate qui Qui dentro Possiamo fare tutto Quello che vogliamo O eventualmente In src Quando avremo dei programmi Un po' più grossi Metteremo altri file Js nostri Ok Quindi Andiamo a vedere Che cosa fare Anzi Che cosa c'è Poi Che cosa fare Lo vediamo Entra un istante Allora L'index.html È un normalissimo File.html No Già scritto per noi HTML Add Bla 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 Tit Reactapp Ecco Se volete modificare qualcosa Eventualmente potete modificare il titolo Che è quello che vi va in cima alla barra del browser Poi Non scrivere DVD root Fine Fine Qui non c'è da scrivere niente Verrà caricato No Qui non lo trovo Ma da qualcuno Ci carica Sa che Vabbè Non si vede esplicitamente Ma Lo farà React Ecco In index.js C'è React.dom.renderer App Che è il nostro componente Che è quello che andiamo poi a toccare Poi c'è quel virgola Document by GetElementById Root No Che Era quello che ha DVD root Basta Questo l'abbiamo visto Oggi Fine Non lo vediamo più A meno che non vogliate modificare il titolo dell'applicazione Che va messo qui Ed è quello che compare in cima Ok Noi apriamo solo app.js Che come vedete è molto più pulito È tutto qui È tutto qui C'è un unico componente Sotto forma di funzione Function app Aperta chiusa tonda Aperta graph E addentro solo un return Simile A quello che vedevamo prima Dov'era Quindi Ecco Non è scritto sotto forma di arrow function Ma è la stessa cosa No? E cosa c'è dentro? Ma c'è una cosa di base Nel senso che Giusto per non farci partire con una pagina vuota Ci mettono Due tag Un'iconina eccetera Che adesso vi faccio vedere Nel browser Però per farvela vedere nel browser Devo fare ancora una cosa Cioè devo avviare il server web Perché abbiamo detto che vogliamo usare il server web No? Quindi Ok Dov'era Ok Avviamo il server web Come Vabbè c'è di import e export Ci tornerei sopra solo quando c'è bisogno E comunque c'è una lezione Futura in cui parleremo bene di queste cose Mi vorrei far vedere Non l'abbiamo scritto Ah no Ecco Era qua Sono perso Era ancora qua Prima Npm start Dentro il my app E poi apriamo il browser Quindi Facciamo questa operazione Potete farla nel terminale qui dentro Ognun terminale fuori non fa niente Dunque noi dobbiamo fare Prima cd prova 1 E vedete che qui dentro ci trovate Node modules Eccetera Quello che vedete qui No? Npm Start Ok Npm start Ok Questa è la prova che ho fatto ieri E che può succedere anche a voi E Il problema è questo System limit for number of file watchers reached Eccetera eccetera Cosa fate quando succede questo problema? O chiedete aiuto sullo Slack O andate su internet Forse è meglio prima andare su internet Che fate prima Avete una risposta più immediata Npm start E scoprirete Che Bisogna fare una piccola modifica al sistema Se vi capita Dipende dalla distribuzione Linux che avete Eccetera Fondamentalmente Succede questo Linux usa Questo package Notify eccetera Per osservare gli eventi che capitano sul file system React è configurato In modo da capire Da monitorare tutti i file Dentro il Node modules Eccetera Quindi una marea di file Oltre ai vostri javascript Cioè Oltre all'app.js E tutto quello che andiamo a modificare Per far sì che nel momento in cui salvate qualcosa Lui automaticamente ricarichi l'applicazione Purtroppo nel far questo Ha bisogno di monitorare tantissimi file E il limite di base Nel sistema operativo Che è Diciamo Impostato Per la maggior parte degli utenti Può essere un po' troppo piccolo Vi metto poi a disposizione Questo comando Che comunque Come avete visto Troviamo facilmente Su internet Di default Questo numerino è piccolino Quindi non so Sarà dell'ordine di un migliaio Forse meno Purtroppo abbiamo da monitorare Per come ha fatto react Più files Per come ha voluto fare il pacchetto react Più files E quindi noi facciamo copia Andiamo nel terminale Diamo questo comando Ovviamente c'è il sudo Quindi viene eseguito come super utente Perché va a modificare un file di sistema Edge Sys Control Conf E ricarica Il Questo Questa cosa Quindi devo mettere la password Ok E adesso L'ho fatto diventare sufficientemente grande Quindi ci sarà poi un file In eccess Contro Che ha Alla fine Alla fine Questa riga in più Potete farla a mano Eccetera E se no Semplicemente Scrivete questa riga Che non fa nient'altro Che scriverla da solo Ok Adesso dovrebbe funzionare Ok Non ci sono più errori Mi ha aperto addirittura automaticamente Il browser Il browser di default Localhost 3000 Devo attendere un attimo Ci va un attimino Perché la prima volta React carica tutto quanto E' una configurazione di sviluppo E quindi Fondamentalmente Deve far girare Babel Tradurre il GSX Eccetera eccetera Lo fa tutto quanto La prima volta che si carica Ok E questo è quello che c'è scritto Nel template Edit source app.js Save reload E gioca con React Ed esattamente Quello che c'è scritto Nel file app.js No? C'è proprio scritto Edit source app.js And save to reload Eccetera Se noi prendiamo questo file E cambiamo il contenuto Cambieremo quello che viene visualizzato Quindi proviamo a farlo Seguiamo magari le istruzioni Qui c'era l'esempio Quindi Hello world No? Function app Cambiamo E ci scriviamo dentro Questa cosa Facciamo una nostra funzione button Che in realtà E' un componente Perché nel momento in cui Scriviamo poi una funzione Che prende delle props E fa un return JSX E' un componente Ma questo lo vediamo Nella seconda parte Di questa mattina E quindi Fatemi fare Il copy and colla Che facciamo prima Come sempre Poi vi metto a disposizione Questi file Anche se questi file In realtà Saranno file Da cui prendere Per far copy and colla Come sto facendo io Quindi Cancelliamo tutto quanto E ci scrivo Semplicemente Quello che c'è sulle slide Function button If props Lang it Ciao Altrimenti hello Button Che quindi è il componente Che ho creato io qui sopra Lang it Salvo Ovviamente Questo è un esempio guidato Quindi Non mi aspetto che voi Finita questa ora e mezza Sappiate scrivere i componenti Stiamo provando insieme La prima volta Quindi c'è sempre il function app Abbiamo cambiato il contenuto Anziché tutta quella roba Che c'era all'inizio L'abbiamo semplificato Return P Premi qui Button Lang it Button Lang it Quindi props Lang Che sarà questa lang Che viene passata E it Ci scrive Button Ciao Altrimenti hello Button Hello Ok Come avete visto Ho fatto salva E Automaticamente Senza che abbia fatto niente React Ha visto che ho salvato un file E ha riavviato il server Ha riavviato Anzi Perché il server è tutto il necessario Che serviva Infatti qui è già tutto a posto No Premi qui Ciao E questo E quanto si vede Div Che non è più vuoto Perché tutto questo è stato creato da React Questo non è JSX E questo è proprio L'HTML DOM Così come creato Dalle funzioni Javascript Di React Ok Guardiamo ancora una cosa Io qui ho installato Quell'estensione Di cui vi dicevo prima Quindi Dove Addons No Extensions Io ho messo React Developer Tools Mettete React Developer Prova a cercare in rete Io ce l'ho già installato Adesso mi dirà che è già installato Ci clicco sopra Sì Mi da solo a remove Perché l'ho già installato Se no fate install E Attivata Bene Questo vuol dire che quando aprite L'inspector Vi spuntano fuori due tab in più Profile non ci serve Prendiamo i components Purtroppo non si può ingrandire Ma qui c'è scritto Up E qui sotto Button Se clicchiamo su button Ci sono tutte le sue Props Se ci fosse uno status Sarebbe uno stato Eccetera eccetera Quindi è un debugger Di quello che abbiamo combinato A livello dei componenti di React Minimizzo Anzi più che minimizzo Diciamo Ecco Lo metto Da un lato Così vi faccio vedere Che cosa succede Nel momento in cui Cambio la proprietà Dentro In Visual Studio Nel codice Quindi Questo lo lasciamo qui Un po' più piccolo Chiudiamo l'inspector Ok Quindi questo è sempre Il mio localhost 3000 Ho sbagliato Questo è il mio Visual Studio Code Cambio la proprietà N Visto che Vabbè C'era it o non it Ok Adesso salvo Volevo farvi vedere Cosa succedeva nel terminale Posso avere un po' più di posto Ok Quindi adesso salvo E vedrete che nel terminale Si ricarica E anche qui A destra Vedrete che Automaticamente React Ricarica tutto Salvo No Qui Si è ricaricato E qui È cambiato Esempio proprio banalissimo Non c'è interazione Se io apriamo questo bottone Non succede nulla Non sto facendo niente È proprio solo visualizzazione Però Visualizzazione è fatta Con un componente React Ovviamente qui Nel terminale Possiamo fare tutto ciò Che è necessario Se voglio fermare il server Posso farlo Faccio CTRL C E si ferma A questo punto Il localhost 3000 Non funzionerà più Se lo voglio riavviare Faccio di nuovo NPM start E poi E poi lui mi apre Automaticamente Il browser Se no me lo apro io Quindi Siamo in grado Di gestire L'applicazione React Versione estremamente base Ok Quindi l'app HelloWard Ho preso Copiato Incollato App Questo contenuto Dentro AppJS Che troverete In tutti Template Creati da Create React App App Deve ritornare Il JSX Di tutta l'applicazione Infatti ritorna P Eccetera Eccetera E qui c'era Div Id root E poi P E tutto il resto dentro Quindi P Dentro ci sarà Bat E così via Possiamo creare Dei componenti nostri Li definiamo Semplicemente Come funzioni Ricevono delle proprietà Che sono Visibili Come props Punto qualcosa E sono passabili Come se fossero attributi Professore mi scusi Se lavoriamo su WSL Verrà Automaticamente Aperto automaticamente Il browser di Windows Temo di no Potete provare Ma temo di no E quindi dovete Aprire voi Localhost 3000 Però magari Viene aperto Automaticamente Il browser Che avete Dentro Il WSL Può darsi Se ce n'è uno Non lo so Onestamente Comunque È solo una comodità Nel senso che Alla fine Lo script Fa Fa un Open HTTP Localhost 3000 O lo fa lui O lo fate voi Anzi ogni tanto Dà quasi fastidio Che lo faccia sempre Perché se ce l'avete Già aperto Dovete chiudere La finestra Vecchia Ok Ho già provato Lo apre automaticamente Benissimo Ancora meglio Allora Dipende Se piaccia Non piaccia Da qualche parte Ci sarà una configurazione Che gli dice Di non farlo Però insomma Ok Vediamo di finire Questo set di slide Così facciamo la pausa Siamo quasi alla fine Ecco Ovviamente Per mantenere Il codice ordinato Da un certo punto Dovremmo Magari separarlo In più file Questo però Richiede un po' Di sapere usare Un pochettino Quegli import Eccetera Che tratteremo Un po' più avanti Per ora Potete scrivere Tutto in un unico file L'ordine di scrittura Delle funzioni Rilevante No Non dovrebbe esserlo Lo proviamo al volo Questa Questo è Però più che altro Collegato a javascript Nel senso che Javascript Prima analizza Tutto Quindi Fa Fa lo hosting Fondamentalmente Dei nomi Delle funzioni E quindi Tutto dovrebbe funzionare Lo stesso Quindi Vediamo un po' Sì Ok Continua a funzionare Tutto Ah Una cosa che vorrei farvi Notare E che nella console A parte Nmila Messaggi Eccetera Trovate anche Riprodotti Messaggi di warning Che vengono fuori Nel terminale Questo qui Che non è nostro E quindi lo lasciamo lì E purtroppo Ogni tanto Ce n'è qualcuno Di questi Linea 8 Non so Se è qualcosa Di interno Che non ci interessa Andare a indagare Prima o poi Qualcuno Lo metterà a posto Però Appunto Usare questo sistema Di sviluppo E utile Perché Ci consente Diciamo Di avere Un ambiente Già pronto Per andare Semplicemente A scrivere Il nostro codice Che ci interessa Ok Facciamo questa prova Col file separato E poi E poi L'ultima prova Beh in realtà Ne avevamo ancora Un paio Cominciamo Con file separato Button.js Quindi io creo In app Quindi in src Creo un nuovo file Lo chiamo Button.js Con la lettera maiuscola Come è stato fatto Con app.js Non che sia fondamentale Ma come sempre Un po' d'ordine Non guasta Facciamo esempio Bottone In cui ci mettiamo dentro Ah no Questo è troppo Allora Devo Ecco Devo Semplicemente Fare un po' attenzione Quando ho tanti file Al fatto che Le funzioni Vanno esportate Importate Dall'altra parte Quindi E tra l'altro Devo anche mettere L'import Del react Adesso Facciamo la prova Quindi qui Anziché button Ce la andiamo a importare Come c'è scritto Sulle slide Quindi facciamo Proprio la prova Vi invito a farla Anche voi Non voglio dire Perdo tempo Io a farla Ma Perché spero Che non sia tempo perso Però Vorrei farvi vedere Che vi resti Adesso Vediamo Ok Sì Ci basta Ok Perché button.js Viene importato Ma avevo già importato Il react era già importato Ok Quindi Button From button.js Il button.js È questo Ok Che avevo già salvato Sì Tutte le volte che salvo Appunto Lui ricarica E vado a vedere E Ok Ricarico Chiudiamo questa roba E c'è il nostro Hello Verifichiamo che sia sempre lui Cambiamo Lang Hit Salvo E vediamo se è cambiato Ciao Sì È tutto giusto Sembra Ok Export default app C'era già Non dovete toccarlo Nel momento in cui avete qualcosa da esportare Dovete scrivere appunto Export default button Oppure Diciamo se ne avete più di uno Bisogna un po' fare attenzione Se ce n'è uno solo Va bene così Se no Potete esportarli come un oggetto E poi dovete importarli Come un oggetto Ma qui trovate fondamentalmente Il pezzettino di codice da copiare L'ultima cosa Poi facciamo la pausa Anche se ci resta Booster Ma vorrei spendere Poi un astante in più E Provare uno stato Proprio giusto per farvi Assaggiare Cosa potrebbe Cosa si può fare No Quindi lo stato Cambiamo E Cambiamo il codice Di quel button Quindi Inviso studio Button Andiamo a Cambiare il codice E ci scriviamo questo Import UseState From React Che è un modo Che ci serve Per dire Che vogliamo usare gli state Perché Per usare lo stato Bisogna fare in questa maniera Che vedremo più avanti Comunque Diciamo che In qualche maniera Ci siamo creati uno stato Che è contenuto In questa variabile Button Lang Quindi non è più una props Come prima Prima c'era scritto Props Lang Questa è una variabile Di cui abbiamo deciso Noi il nome It Se it Return Il button Con scritto ciao Altrimenti hello E in più abbiamo messo questo OnClick Agganciamo l'evento E gli mettiamo una callback Che chiama la SetButtonLang Che è Una callback Ritornata da useState Che può andare a modificare Lo stato Del modo con cui si fa In React Facciamo la prova E poi facciamo la pausa Così ci pensate Su un istante Quindi browser Ok Premi qui Come vedete Adesso c'è una callback Che va Una callback Sull'evento Che va a modificare Lo stato E sulla base Dello stato Viene cambiato Il contenuto Del componente Clicco Passo da ciao Aello Ultima cosa Nel componente Quindi vado su button Button Ha uno stato State N Ok It Si vede poco Ve lo leggo N Hit No Ho mancato il click Hit E così via La props È sempre la stessa È sempre immutabile Quella ricevuta all'inizio Ma lo stato Può essere cambiato Direi che ho parlato Abbastanza E quindi Facciamo pausa Quindi Abbiamo visto questo esempio Facciamo pausa E dopo la pausa Finiamo queste slide E poi avremo una parte Un po' più teorica In cui cominciamo a ragionare Avendo visto l'esempio Sui vari aspetti Più in profondità Dopo la pausa Però voglio ancora Farvi vedere Come usare Boostrap Che è una cosa Che vi servirà Nel laboratorio Ok Quindi Come sempre Interrompo la registrazione E poi la riattivo subito Interrompo Anzi Lo zoom E lo riattivo subito Così facciamo processare La prima lezione In cloud E tutto quanto E verifichiamo Che tutto stia funzionando Correttamente Soprattutto Va bene Non vedo domande Quindi interrompo Riparto subito Facciamo i soliti Cinque minuti di pausa E poi riprendiamo Grazie Allora Dentro Grazie Alzito Soprattutto езi In чи Soprattutto ano Quindi